vince l'Inter stravince l'Atalanta e io devo dire che sono molto soddisfatto delle nera-azzurre no? delle due squadre delle due partite che ho visto stasera perché per quanto riguarda l'Inter una buona gestione della gara anche se poi sarebbe sempre preferibile chiuderle queste partite qua ma se non gli concedi quel brividino noi tifosi poi magari ci assoppiamo e ce lo dobbiamo aspettare e per quanto riguarda la Dea si conferma non solo una delle squadre più forti d'Italia per quanto me riguarda si conferma anche una delle squadre più competitive d'Europa l'Atalanta è competitiva anche in Europa e adesso approfondiamo tutto ovviamente prima come al solito l'invito è sempre lo stesso non cambia di un centimetro nulla c'è sempre il nostro amico fratello e simpaticissimo algoritmo che cerchiamo ogni volta di coccolare di di rabbonirlo no? con i vari like e i commenti se vi va continuate continuate a spolliciare continuate a dire la vostra sotto e perché no se volete supportarmi potete sempre iscrivervi attivando la campanella su YouTube e mettendo il segui su Facebook che vi ringrazio perché è un gesto del genere che a voi ovviamente non non porta nessuna spesa a me invece fa per me farebbe una grandissima differenza in ogni modo ad ogni modo sempre ancora grazie partendo dall'Inter ovviamente divido il tutto in capitoli partendo dall'Inter giocata a gara giocata in maniera seria mi è piaciuto tantissimo anche il palleggio quante volte siamo usciti bene dal basso ho visto proprio quell'Inter che sa giocare bene a calcio forse anche contro un avversario oggi che mancava qualche pedina se penso a Xavi Simons un giocatore per cui stravedo magari lui qualche pericolo in più l'avrebbe potuto creare magari abbassarci ma anche in quel caso io vedo un Inter adesso che che c'è per esempio abbiamo l'altro giorno abbia perso a Cervi ma vedete Brahe oggi veramente dentro concentrato non ha non ha sbagliato nulla bene le diagonali dei braccetti abbiamo concesso un tiro a a Nusa se non sbaglio al settantesimo non ricordo quello è l'unico tiro e poi se vogliamo quella palla nel finale magari si poteva gestire un pochettino meglio la situazione ma siamo a una partita di Champions e seppur parliamo di un Lips a zero punti parliamo di un Lips che è la terza squadra in Germania al momento sta mettendo sotto anche il Leverkusen e quindi sono sempre partite che poi non sono semplicissime e invece questa Inter le fa sembrare le fa sembrare tali e quindi molto molto bene sul piano del gioco cosa manca per quanto mi riguarda ancora gli attaccanti ecco mi sento di dire questo se dobbiamo trovare il neo perché poi queste gare devi chiuderle lo dicevo all'inizio video l'ho confermato questo è una partita che poi non te ne devi trascinare perché non è una palla e mezzo e tu vai a cestinare una vittoria che poi è importante una vittoria che oggi ci porta al primo posto in classifica pur classifica parziale una partita in più sul Liverpool ovviamente però oggi abbiamo 13 punti con 18 punti sei nelle prime otte questo sarebbe fondamentale significerebbe davvero qualificarsi togliersi due partite di Champions gravose togliersi i sedicesimi sarebbe importantissimo l'Inter l'Inter oggi è in scia per farlo assolutamente anche se poi c'è ancora da andare a giocare con l'Everkusen l'ultima col Monaco che in Champions non ha perso che è la seconda in Francia che sta facendo un ottimo campionato quindi non sarà semplicissimo nel mezzo lo Spartan che teoricamente però meglio che sto zitto quindi c'era da portare a casa i tre punti c'era da portare a casa i tre punti bene come dicevo il ritorno scusate sto un po' sguicciando ritorno su quello che sta mancando uno Taremi Taremi perché io quando fu acquistato dall'Inter ero al settimo cielo lo sono tuttora attenzione la stagione è lunga avrà ancora tantissime occasioni ma oggi bisogna dirlo non sta rendendo ragazzi me uno che non ha ancora segnato su azione uno che quando appunto arriva davanti alla porta o comunque in aria non tira mai non lo so è sempre più predisposto per l'assist per il compagno che è pure una bella cosa però ragazzi è un attaccante quindi gioco forza sta mancando qualcosa perché Taremi è forza cioè Taremi è un giocatore che è anche inciso in Europa col porta ha fatto vedere cose importanti quindi è chiaro che mi aspetto altro assolutamente e per lo stesso discorso sia per il fatto che maggiori maggiori qualità e quindi da un potere derivano responsabilità si dice così vado subito su Lautaro cioè Lautaro ragazzi mei deve fare più non è che uno ce l'abbia con Lautaro tutt'altro è fortissimo Lautaro è un grandissimo ma proprio per questo motivo qua se fosse un giocatorino uno dice si accontenta no non mi posso accontentare di questo Lautaro Lautaro deve fare di più Lautaro deve incidere di più anche lui ha fatto vedere buone cose ma quella palla che gli arriva nel primo tempo una cosa di Marco gliela mette lui la gira di sinistro il suo tiro che con con l'argentina gli esce tutto arriva niente ma magari lì non ti esce quella giocata stoppala in questo momento non ti escono quel tipo di giocata stoppala perché poi oppure dalla di primo per Terem che è solo ma dobbiamo fare meglio cioè voglio di più voglio assolutamente di più e questo e questo è Dunfrissi che alterna giocate paurose come all'inizio della ripresa e poi magari la cestina no fa la cosa fantasmagoria e poi magari a volte si perde tecnicamente in un bicchier d'acqua però io ribadisco di questa partita sono molto soddisfatto Zieli schi c'è l'annoglu barella mi è piaciuto molto la squadra c'è c'è l'assetto c'è il palleggio c'è il controllo c'è c'è la fase c'è ripeto lì davanti oltre a Turam che anche oggi aveva fatto la giocata che poi aveva portata al secondo gol ed era gol per me per me quelle gol per me poi magari io ho metriche diverse non è uno scandalo annullarlo però se poi becco l'uno a uno un pochettino ci rimango male perché per me è quello eccolo non è fallo però dicevo levato Turam dai 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 e andando all'Atalanta anche qui se andiamo a parlare di risultati dell'Atalanta l'Inter ancora 0 gol subiti l'Atalanta oggi subisce il suo primo gol l'Atalanta così come l'Inter è entrambe in battute veramente queste nero azzurre che vanno e lo dicevo e lo ribadisco l'Atalanta non lo dico tanto per lo dice il campo perché poi non parla il campo il campo è giudice il campo non fa chiacchiere come le posso fare io il campo dice che l'Atalanta non solo è una delle più belle più forti in Italia è una delle più belle è una delle più forti in Europa una delle più competitive non solo perché straccia lo Young Boys e qualcuno della Anker è una squadra 0 punti io ho visto con l'Inter la partita che te la sei trascinata all'ultimo minuto la sblocchi all'ultimo minuto con Turam invece questi li sventrano in un tempo l'Atalanta l'ha sventrata in un tempo e nessuna partita è semplice ma anche contro squadre come l'Arsenal l'Atalanta ci ha dimostrato quindi è una squadra che se la gioca è una squadra che può arrivare in fondo è una squadra che con le varie combinazioni perché no può pensare di arrivare anche nelle prime otto non ha un calendario semplicissimo perché poi c'è Real Madrid della prossima sono partite che non mi voglio perdere per nulla al mondo nel mezzo c'è una partita alla portata che in questo momento non mi ricordo se non sbaglio lo Storm Graz alla portata assolutamente alla portata e poi c'è il Barcellona ma quello che è bello ecco proprio voglio utilizzare questo termine bello affascinante intrigante è che l'Atalanta se la può giocare anche contro queste squadre qua cioè l'Atalanta non parte battuta questo è è l'attestato di forza più importante che in questo momento gli si può attribuire alla Dea e oggi no ritorna ritorna rivediamo titolare De Keterar fa anche lui un partitone cioè è una squadra che riesce anche ad andare al di là del singolo che non è una banalità cioè oggi ma anche il giocatore per me è più forte teoricamente dell'Atalanta perché oggi in un ruolo cruciale in qualsiasi in qualsiasi squadra nel calcio di oggi il ruolo cruciale ce l'ha il centrocampista il perno come per l'Inter c'è la Noglu come magari per il Napoli ci può essere lo Bottica bla 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 Ederson per l'Atalanta oggi mancava Ederson vanno gli altri e vanno comunque a Mila De Ron Pasalic ma soprattutto lì davanti cioè non avevamo visto De Keterar cioè oggi manca Lukman c'è un altro giocatore pauroso c'è De Keterar che fa due gol due assist uno più bello dell'altro cioè con che qualità con che legiatria no e poi dalla panchina può mettere anche altra gente no oggi per esempio ha giocato la prima volta quadrato boom anche lui ma tu dalla panchina puoi andare a pescare Bellanova Samargi l'avete visto il gol di Samargi ragazzi prendetevi 30 secondi del vostro tempo se non l'avete fatto andatevi a vedere il gol di Samargi ce ne fa fuori tre se li beve e l'ultimo addirittura con la con la con la suola accompagna il pallone volo volutamente fa il tunnel all'avversario e incrocia quel quel sinistro mamma mia ragazzi ma che giocate ma che giocate la punta reteghi che che c'ha una freddezza ragazzi fa sempre il movimento esatto giusto con i tempi appropriati ed è un fuoco sotto porta l'Atalanta è forte ragazzi l'Atalanta è veramente forte l'Atalanta è forte e per me non è una questione di e adesso sta andando tutto bene l'intensità ma poi calerà calerà sicuramente come qualsiasi altra squadra come qualsiasi altra squadra avrà dei momenti più di down e di up come qualsiasi altra squadra tutte tutte chi più chi meno tutte però questa è una squadra che adesso ha un serbatoio ampio veramente ampio anche anche Gianno lo stesso non mi dispiace ed è incredibile ragazzi parliamo solamente dei giocatori d'attacco ma dobbiamo anche andare un po' dietro Ian anche oggi Ian non ha fatto vedere palla all'avversario ai vari avversari non gli fa vedere palla quindi questa è una squadra che sotto veramente tantissimi ripari sotto tutti i reparti è ultra competitiva è forte e lo certifica come dicevo prima il campo sostanzialmente questo questo è spero di non tralasciare niente di non tralasciare un singolo piuttosto che un altro perché perché dovresti fare la conta su tutti dico sempre no ma ma davvero davvero incredibile davvero incredibile io io che dico io me la godo da un sacco di tempo questa squadra qua adesso se la godo non per tutti giustamente niente ragazzuoli fatemi sapere cosa ne pensate voi se volete commentate leccate come dico sempre iscrivetevi al canale se merito il vostro supporto altrimenti un grande abbraccio lo stesso buonanotte perché non per me ecco non per me non per me Grazie a tutti.